ciao a tutti ragazzi bentornati su jolly show siamo ancora qui con pierre emery che su call of duty advance ed orfea saluta ciao a tutti è perché lo sai che ti sento a scatti ok comunque stavo dicendo questa volta piuttosto che rifare il solito deathmatch a squadre volevo fare la modalità dell'infetto mentre invece sul canale di pierre emery che ci sarà un altro video in cui saremo sempre il solito deathmatch allora per chi non lo sapesse la modalità infetto è diciamo una sorta di zombie cioè uno viene infettato e deve attaccare gli altri e se viene ucciso viene infettato deve uccidere quelli che non sono ancora infetti è un po confusionare come cosa però adesso lo vedrete te matteo hai capito la modalità o sei ancora in crisi come l'ultima volta no l'ho capito l'ho capito speriamo che non inizio io perché no no infatti l'ultima partita che abbiamo fatto ero capitato io comunque spero che questa modalità vi possa piacere giusto per modificare un po infatti pensavo già di fare con pierre emery sempre una challenge perché c'è la modalità classica di call of duty in cui non ci sono le funzioni dell'exo ovvero diciamo le persone normali come i vecchi tempi oh ti sento a scatti vabbè un po di linea notte ora si sistema caro allora abbia partito allora una nota curiosa e affascinante dell'infetto c'ho l'arma c'ho l'arma quindi non so io manco io no però te lo dice dopo se sei dell'infetto o no che parlo non so comunque vi stavo dicendo appunto la ah ok sono sono normale allora il problema ecco problema una cosa curiosa e affascinante del della modalità infetto è che non avete oddio eccolo ho capito sono già due oddio mi stanno inseguendo mi stanno inseguendo come vedete l'insetto è diverso dagli altri comunque non è tanto quello il problema ma stavo dicendo che tutti i vostri arsenali diciamo non ci sono e niente tutto qui e vi da già delle armi standardizzate in base alla mappa in alcune mappe col fucile laser praticamente una roba del genere oh dove sei che ho scoperto ecco mi hanno ammazzato come stasci ah ok sei infetto ti vengo a prendere? ma che ti vengo a prendere trovi eh meno male che non ti ho detto dove ero guarda è tanto l'ho visto come ho visto sta sopra l'elicottero no ma trovi scappa no mi sta laggando oddio no non dirmi che di te troia sono una miglietta ma sta sul tetto del bunker sei stato infettato comunque come vedete sempre delle armi che vi stavo dicendo prima anche gli infetti hanno solo quest'arma madonna quanto va veloce si infatti avete anche maggiore velocità credo che qua ci sia qualcuno no ma io ho visto non l'ha trovata ma io hanno ammazzato perchè hanno lanciato ma avevano lanciato il cortelletto un cazzo male devi prendere r1 ho mandato cazzo mi spoglio infatti non capisco dove cazzo cazzi come prima partita diciamo da infetto sto facendo pena spero che la prossima partita sia dai questo l'ho ammazzato trovo io che me l'ho rubato mi hanno rubato la preda mi hanno rubato la preda oh ma quei volano in cielo un cazzo ah ho sgamato ho sbagliato no no ho sbagliato pulsante ma perchè ho lanciato quella roba porca miseria porca oh hai visto c'è che si si queste qua di sicuro sono quelli allenati il problema dell'online di call of duty è che trovate gente accanita ma accanita pesantemente che praticamente passano le giornate a giocare alle modalità quindi per ogni modalità trovate dei veri e propri è rimasto una è rimasto eh tutto da lui sta manna eh si se lo troviamo lo trovo assimo vediamo un po' italiano eccolo eccolo comunque io sinceramente nooo guarda tutto sbaffa culo parlando di robe serie io preferisco la modalità infetta di halo rispetto a quelle di call of duty oh ma madonna che carneficina che stava facendo sto qui eh vedi massiccio comunque è difficile ragazzi non ho ucciso nessuno eh è difficile ho fatto due uccisioni questo è l'unico voletto che l'ha fatto in zero sono barbone ragazzi credo che il titolo sarà faccio schifo in modalità infetto comunque io direi di riprovare dai seconda partita da infetto poi registri te pierre si però non mette riot al limite io metto casuale vai detroit mi ispira detroit da infetto ok ragazzi avete visto quanto sono sexy con la testa del robottino eh no io la odio sta mappa del carcere di the walking dead mi sta proprio sulle palle allora avvia partita infetto tre belle fucili oh ma quelli già stanno a giocare però eh fai di tutto per sopravvivere no no ma tu stai iniziando eh però vedi sotto no dice contro la rush ancora eh ma sotto tu non ce l'hai tipo 10 a 0 o no no cioè si però siamo uno solo in 10 non è che perché non ancora inizia qua ecco qua che ragazzi inizia ma ho messo la pistolina ha sfigato si è vero ogni tanto variano le armi ah si è l'infetto eh no infatti all'inizio l'infetto oh dio mio io lo so che ti mi vieni a cercare che palle Lo stronzo sei Non mi avrai vivo? Perché io conosco il passo Oh ci alleamo Ma che ci alleamo? Ah bello io voglio sopravvivere Non voglio essere effetto Sono fan di The Walking Dead quindi a me gli infetti fanno schifo A me me stanno ammazzati E' buono che perdo guarda Io sono l'unico coglione da solo Lo sai vero? No perché l'ho detto? Sono un genere del crimine Vedrei ripiattare qua un segnalatore Va dietro guarda un po' Ma dove sei? Oddio E non lo so Non sai nemmeno dove sei Zitto zitto lo trovo No Ti vedo nel radar Ragazzi mi stai venendo un'ansia Ragazzi il vero Emeric Fa ancora più schifo di me Noi stiamo qui Oh Zitto lo ha cappato uno Come l'hai cappato uno? Zitto No 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 l'ha infettato L'ha infettato Ragazzi inizia Inizia la rivolta degli infetti Aiuto Ah Ho paura Ho paura che mi spuntano in fratto le spalle Eccolo va Dove? Sono stati infame Oddio No guarda dove sta Sopra la porta Si lo so Sono quei posti che sto cercando anch'io Ma non Non riesco Perché per andare in quel posto dove voglio andare io Tanto ti troverò Hai capito? Stai un po' aumentato Dovrai vivo No devo proprio fare il giro Di un minuto Devo fare il giro della macchia Per arrivare infettato Questi sparano porco Eh si che spara Non credo abbiano voglia di infettarsi Ah eccolo lì il posto Ma piazza proprio Ma piazza Ah no t'ho visto Tempo aumentato Oh merda fritta Oh merda fritta Tempo aumentato Ah volevi Tanto ti ho visto Dove sei ormai No 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 Ragazzi sto Sto scappando No che cazzo Chi è che mi ha sparato Tottottottoni Che gioco da sto brutto bestia Va bene ok E' riuscito a sopravvivere No sei stato infettato Ma si che ho consapevole In fatto ho detto Ero riuscito a sopravvivere Ero passato Guarda questo Guarda C'è presente Poco l'inizio La parte Poco iniziale Sì Ah eccolo va Lui se stava Quello Stava qua sopra Se non so se me vedi Va bene Va bene No però tanto Già ce l'ho presente Mi racconti che arrivavano Vedeva tutti che arrivavano E così era Sparava meglio Cioè Lo so Chi è Ma non è questo Negli spogliatoi Non me lo sarei mai immaginato Di mettermi lì Sinceramente Ragazzi Un'uccisione Una morte Pareggio totale Tu sei morto 12 volte Godo Comunque ragazzi Credo che per questo video Di Call of Duty Advanced Adorfea Possa essere tutto Spero vi sia piaciuta La nostra modalità La modalità Dell'infetto Se è così Scrivetemi nei commenti Se volete Un nuovo episodio Di questa modalità O se volete Che testiamo Tutte le altre modalità Molto probabilmente Nei video Sarò in compagnia Di Pierre Emerick Sarò mi sento solo Quindi Se vi è piaciuto Lasciate un like E commentate sotto Come appena detto Quindi un caloroso saluto Da Jolly Show E da Pierre Emerick Saluta caro Ciao a tutti A presto Per altri video